Buondì, buonasera, buonanotte. Abbiamo catturato una stella, ma la battaglia è ben lunga da essere vinta. Stiamo analizzandola. Abbiamo un haven da salvare del Sinedrio, quindi ci potete rendere un po' più simpatici. Abbiamo ancora quell'erla che stavamo aspettando di diventare una sita da distruggere prima che lo diventi. E un po' di cose da sistemare. Dopo la sigla. Rieccoci qua. Allora, stiamo sistemando un po' i nostri team. La modifica che ho fatto più importante è che avevo dato al nostro Q-Bert un torso di questo tipo. Neural torso. Che dà più accuracy, quindi va bene per il fatto di essere cecchino. Raddoppi la forza, ci interessa relativamente, ma ci dà la possibilità di montare le mounted weapon di cui lui ha proficiency. Stiamo aspettando che venga creato un bel destiny per lui. Nel frattempo abbiamo un bel missidotto che può utilizzare. Quindi, perché no? Perché no? Nel frattempo cambieremo magari lo schioppo che ha con uno degli antichi, magari. Gli altri non hanno molto. Abbiamo una marea, una marea di mutagen. Infatti potremmo fare ancora un altro berserker. E' un altro mutoid. Tipo un altro cecchino. Alla fine, quello che dipende qua. E' l'arma che volete utilizzare. Se volete usare armi da mischio e pistole. Fucili d'assalto. Lancia e granate. Mitragliatrici. Da vicino me. Questo, boh. Potrebbe avere senso. Tecnician. Ce ne abbiamo uno o me. Forse un altro assalto. Questo ci abbiamo già l'arma. Non fa tantissimo, ma ce l'abbiamo. personale. Avevo forse un uno sniper infiltrator da qualche parte. A cui posso dare quella crystal crossbow. Eccola, mangione. E c'è la pistola. Mi fa 50. Ringe effettivo 27. Pesa un po' di più, però. Danno 60 con piercing 40. Ah, surprise attack. Abbiamo tutto. E' un infiltrator, ma non ha nulla dell'infiltrator adesso. From behind. Questo mi interessa. Quindi aspettiamo che si pompi. Danno fatto quando non viene beccato. Ha cresciuto. Allora. A bravo abbiamo montato sul modulo cruise control, quindi dovrebbe andare più velocemente. The gift sta andando sulla Tidlewin Ruin da scavare. Questo Sinidrio sta per cedere, quindi stiamo andando a salvarlo con la Masked Manticore. L'altra Masked Manticore sta andando a conquistare qua. Chi serve? Forse ci serve di più qua. Qua non c'è molta scelta da fare. Abbiamo... Allora, intanto cancelliamo. Dobbiamo fare la Silla Autopsy e la Fandoran Citadel come... ...la ricerche. Oblu e ricomincia da qui. Quindi mai è successo? Non lo voglio sapere. Ok. Ah, il cibo è proprio l'unica cosa che non ci serve. Qualcuno non sarà troppo contento di questa cosa, ma ne ne sbatto le balle. Dette in maniera molto elegante. Tu hai 32. Faremo un Sloth e... ...Strongman che però ti brucia tutta la Perception e te la Perception potrebbe servire. Non ho idea se questo va meglio di questo. Questo fa 90. No, quello fa più danno. Anche se l'Effective Range è maggiore. No, diciamo l'arma laser, va bene, così. In più la possibilità di paralizzare. Potrei dargli un po' più di willpower e un po' più di punti vita. Questa cos'è che è? Acciorarsi più 2, Speed più 1. Speed più 1, che mi interessa. Ok. Adesso Q-Bert è anche un po' più resistente. Aspetto di darti quelle possibilità là. Per darti Ready for Action. Reckless, non è il caso. Di due Strength. Mindcrash potrebbe essere interessante. Per ora a te non serve nulla di tutto questo. Speed ti serve. Eabolic rosa. Va bene così. Anche le armi da cattura, quindi va benissimo. No, questo è proprio il contrario di quello che ti serve. E' d'oro. D'oro hai fatto una gran cosa l'altra volta. Questi però adesso non ti servono tutti i besti. Se bacca una silla? Non so cazzi. No, a parte questo. Per darti questo può farti diventare definitivamente la cattura. approvato. Per sparerone è un sloth. Però soffre un po' la mancanza di... willpower. Dovremmo avere tutto adesso. Eh, dobbiamo fabbricare più armi degli antichi, eh. Stiamo sempre indietro. Va bene. Andiamo. Eccoci. Allora. Vediamo già due simpaticoni. Grazie nostri. i nostri... con la Perceptor Head. Bene. La cosa mi fa pensare è che qua ci siano un po' di gente, quindi va. Non granché. Oh, giusto. Io mi sono dimenticato di... Ma perché il nostro team forse... Nel senso che... Lo faccia lui. Abbassati, ti prego. Ok. Allora. Tu potresti andare a vedere se c'è qualcun altro, né? E perché con tutta quella potenza... Eccola qua. Chi è questa qua? Una sirena di tipo... Arbinger. Ah, giusto, tua e puoi vedere di notte, vero? Me l'ho dimenticato. Bene, lì c'è un discreto... Gruppo di gentaglia. Hai visto qualcuno? Abbiamo un assalto qua. E ci mancava l'Acheron. Di turno. Forse sei più efficace in Overwatch con questo. Siamo a far male alla sirena. Sentirei giù Glitman. Ah, quello mezzo paralizzato. Ghoul Alpha. Maniac Alpha. Tyrant. Nulla di interessante. Iniziamo a fare un po' di macello. Ma lo faccio un 0%. Molto bene. E' che tu mettiti in Overwatch di qua. Overwatch di qua. Ecco, Bombs non... Manco per la... Manco per la capo. Di qua. Acco. Due Chironi. Agni e Apilo. Se qualcuno cerca di girarci. Tu potresti già sparare un bel missilotto. No. Non ne vale la pena. No. E' come se non... Fai finta che non te l'avevo chiesto, va? Oh. Mmm. Mmm. Pensai che non lo pecchiamo. E invece l'abbiamo preso. Perché è partito il lanciavesri così a caso? Octopus Garden. E ora ci sei tu, Tentaculat. Io ti direi di avvicinarti qua dentro. Che poi di qua c'è da fare un macello. Mmm. Però qua dentro devi essere al protector. Qua c'è una delle strutture da proteggere. Qua. E ci scudiamo un attimo. Ok. Abbiamo una marea. Manco un colpo, eh. Manco un colpo. Bravo. Intanto questo è già abbastanza paralizzato a non poter sparare. Vabbè, ci sta. Questo non mi piace. E tu non puoi spostarti più di tanto. Colpo paralizzante è servito. Fra quanto movimento nascosto c'è. Uglalà. E iniziamo a sparare. E inizio a spararci addosso i verniciattoli. Ehm. 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 Buonasera, mi scordavo di questo, mi ha incollato il verme, ma il verme incollato potrebbe comunque farti dei danni, allora il problema qua è che c'è una marea di vermi ciattoli e se non li faccio fuori tutti, qua è un problema, tu hai rapid clearance, tu hai rapid clearance? No. Eh, la cosa brutta è che ho usato una marea di munizioni. Eh no, eh no, eh no, eh no, eh no, qua non va bene. Ora va meglio. Allora tu devi far fuori quel vermi ciattolo. Eh sì. Ah, c'è il cure spray, confusion cloud. Bash. Un altro cazzottone. Bravissimo. Le visibilità sono su quello che mi interessa, la teoria. Uh, le tue visibilità sono a Chiron. E sull'Acheron. Siamo qui, game. Quello non diventa... Non l'hai colpito. Non va bene. Ma adesso quello che mi interessa è fare del male a questa bestiaccia. Benissimo. Allora. Dobbiamo ammorbidirli, eh. Solo le Littman. Col cavolo che lo ammazziamo questo. Allora, e gira tra l'altra parte. Eh, ma diamine! Questo mi sembra un ottimo colpito. Non l'abbiamo ammazzato né uno né l'altro. Abbiamo danneggiato. Adesso c'è 112. Questo non lo facciamo secco, ma neanche... E uno di Overwatch. Ok. E spostiamoci un pochettino più avanti. Pentaculate potrebbe già iniziare a farne male questi, però... L'idea è far fuori quelli là, eh. Allora, tu spostati un pochettino avanti, va che... Nel prossimo turno facciamo fuori un po' di vermicelli. Spariamo un po' di vermicelli noi. Allora. 7,40. 7,40. E' 74 punti paralisi neanche... Però guarda che bella testa che viene fuori qua. Mancata. Allora, se va bene, perché... Vag con la Scyther ne ha avuto abbastanza. Molto bene. E iniziamo a farne fuori uno di questi, va. Se ci riusciamo. Molto, molto bene. Questi sono troppo lontani, però... Non possono andare nel panico. Andato gli rosecchiamo un po' di will point. Io ti direi di ripiegar questo momento. Gari dall'alto, li minacciamo un attimo. Mettiti un bello scudo. Giusto per maggior sicurezza. Adesso è incollato. Ah, ehm... Vabbè. Di te mi ero completamente dimenticato. Quale paralizzato? Devi sparare a qualcun altro. Inutile. Questo li devo far fuori. Tra il muretto e lo scudo, speriamo di resistere. Vediamo se così ce la fa un po' meglio. Allora, la situazione... Ho visto che si era bloccata dopo la finestra. La situazione era questa. Abbiamo qua un goal. Questo è stato controllato mentalmente. Qua dietro c'è la sirena. Noi abbiamo fatto fuori adesso il Maniac Alpha che ci ha lasciato giù il suo bello schioppo. Sì. Abbiamo questo verme che è controllato mentalmente da questa sirena. che è la minaccia principale in questo momento. Intanto spostiamo questo vermicello in modo tale che riusciamo magari a catturare quello lì. Abbiamo tutti i cecchini che si devono spostare in avanti. Messe la... Te l'ho fatto tanto paura un vermicello. Sì, ma me lo devi tirar fuori il vermicello. Non è che deve sparirmi come al solito. Niente. Niente vermicelli. Solo uno sprecato. Va bene. Littman non mi interessa. Il goal Alpha mi interessa di più. Un tiro impossibile. Vieni avanti, Qbert. Mettiamo il cilindro. Riesce a colpirlo? Game. Impossibile. Ok. Mettiti in Overwatch. Non puoi fare più intanto Overwatch. Va bene, mettiti qua così. Allora, tu hai informazioni. Combat Shield. Non è stato toccato. Va bene. Hai la possibilità di colpire qualcuno? Vermicello. E... Questo è quello che riesce a colpirlo meglio. No, non mi piace però. Avvicinati un po'. E scudati per il disagio. Ok. Vediamo questo assalto qua. Cosa gli viene in mente di fare? Ti odio. Ti odio. Hai sparato contro uno paralizzato. Che voglio portarmi a casa. Sei proprio un ass... Un assalto. Ok. Hai fatto la tua scelta. Non la... Non la comprendo. Ha dato frenzy non so chi, però... Eccola. 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 Vai. Ma bravissimo. Va bene. Se vai avanti a spararmi a colletti... Faccio ammassare da questa. Allora. Abbiamo due invisibili. Molto, molto bene. Da stacchiamo. Un willpoint di meno. E via. E ci portiamo a casa anche un triton. Allora. New Jericho. E... Discirepo il Diano. Il documentare a segnati di Discirepo il Diano. New Jericho un po' di più. Sinedro ci vuole molto, molto bene. Ci ha dato una marea di materiale. Ci portiamo a casa un tritone. Un'arma virale. E' una di questi. E non ho ben capito dove arriva. Certo che l'accetto. New Jericho ci odia. Allora. Diplomacy. Aligned. 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 Forza. Forza. Peccato che non siamo riusciti a capire dove arriva la cosa. Però una volta che facciamo questa Pandoran Citadel riusciamo a vederli senza aspettare gli attacchi dei nemici. Riusciamo a vedere dove arriva. Stavo pensando. Tanto. Oggi. OBS non è mio amico. Allora. Abbiamo fatto tre nuovi Mewtoid. Uno lo Sniper. Potremmo chiamare già Diabolic Verde. Questo è un assalto se non ho sbaglio. E questo è un infiltrator. Ok. Ho creato una Masked Manticore nuova. Vediamone. Ho ordinato una Masked Manticore nuova. Dove il Burnetion Pod. Shard Gun. Insomma abbiamo un po' di roba. Che stiamo facendo. Non siamo riusciti a trovare la base della quale ci hanno attaccato. E questo è un male. E ora stiamo andando due eri qua a distruggere. Quello che serve. Strano però. Basic info. Tu non hai un... Ah c'è l'hai il satellite plug link. E sta già funzionando. Non l'abbiamo beccato. Siamo mai mai. Ok. Trade. Decisamente povero eh. Oh brah. Intanto ci puliamo qua da tutta la Mist. Quindi il nigerico può in effetti può rispondere a un attacco. Siamo messi bene. Siamo messi bene. Possiamo prendere un altro infiltrator. E rubargli tutto di nuovo. Tu c'hai già la satellite plug link che sta arrivando. Qua è un tripudio di Mist levata. Qua sta arrivando un po' di... Allora Muscle Manticore qua può andare a prendere questo. No. Sto già andando. No. C'è un altro aereo che sta andando lì. Per poco salveremo anche il caos syndicated da la Mist. E ci può anche stare. Qua c'è l'altro Muscle Manticore che sta andando là. Andate di qua. Benissimo. Benissimo. Allora possiamo fare la Silla Video Dissection. che mette al 10% il danno inflito alle Silla che non è male. E' anche obbligatorio per andare avanti. Però prima dobbiamo fare... Eccolo qua. Arzron Umbra. Questa è una roba brutta brutta bruttissima. E quello lo volevo distruggere ma non si è potuta fare. Vabbè. Solite cose, solite cose. Questa è una roba brutta. Questo è con la conseguenza della seconda DLC. se il Pandora... se il Pandora... se è un... Arron Nergal e Ningal che sono... Oh! Ok. Questo è... Poison Worm. Ma la cosa peggiore è questo. Questo spara a goo. Questo spara a goo. Questo ti impattacca al suolo. Non ho idea di quante munizioni siano... ma questo è molto molto brutto. Qua ci dobbiamo aspettare... che salti fuori un Arthron... molto debole. Lo facciamo fuori subito. E poi salta fuori questo... che è velocissimo. Ha un sacco di punti vita. Fa un sacco di male. Questo è proprio proprio brutto. Non possiamo attaccarla questa? Che belli questi bug. Allora... Se è in transit. Bagghettone! Non possiamo attaccarli. Semplicemente non possiamo attaccarli. Perché? E che cazzo ne so. Air Force. Qua. Intanto vi ripigliate. E potete andare a prendere questo. L'assette può andare a conquistare questo. The Gift può andare a conquistare questo. E lì mi sa che dovrò riavviare. Un'altra shotgun. Un'altra shotgun. Ragazzi. Direi che per oggi può bastare così. Non so se il video è lungo o corto. Perché ho avuto una marea. Ma una marea di problemi in fase di registrazione. Quindi direi che... Ce la facciamo bastare così. Ciao. Ci vediamo la prossima volta. Ciao.